Io credo che arrivai a me tutto il prossimo, tutto il prossimo, tutto il prossimo, tutto l'ultimo della matematica, che mi occupi ancora di più dopo l'intervento che ha fatto il buon pastore di Chiesa, allora bisogna pensare alcune cose, quando si dice che l'Europa non può essere politica, non si dice una cosa feca, perché non può essere più politica, non può essere più politica, perché via procedurati, significa dei testi che non consentirebbero più di costare la spesa e con la data di Chiesa. Il mio Europa è I-O-T-T-K-T-T-E. Quando si parla dei 3 milioni di euro di costanziamento del Comune di Cazzo, si dice una cosa finita Non abbiamo utilizzato le risorse al confinamento e sarebbe stata una cosa comunque giusta a osticare, e se ce ne fosse stato dicendo, avevamo potuto utilizzare le risorse, non abbiamo utilizzato niente. Abbiamo utilizzato il confinanziamento, le risorse finanziate, già impegnate e sempre utilizzate per realizzare altri progetti, con le distanze di San Manolo, le distanze ad altri e altre cose. Quindi le opere dell'Europa non devono essere modificate, sia per questione del tempo, sia perché hanno un'autonomia funzionale che deve essere rispettata, non può essere il cibo. I beni che un piano non sono stati utilizzati perché c'è il confinanziamento, e poi dopo passeremo anche a parlare del confinanziamento di pensione, anche se l'opera da alcuni dirigenti. Perché nel piano che c'è un'autonomia funzionale, c'è un'autonomia funzionale, un milione e cinquecentomila euro destinati a me che sono stati, che è un immobile che si trova in versione di attivo. Abbiamo risultato quando stiamo riusciti a recuperare quelle distanze finanziate, non ci siamo posti il problema che quel milione e mezzo non dovrebbero essere utilizzato per il confinanziamento di San Benedetto, di stesa, di altrino, di San Manolo, di nuovo. Abbiamo detto che siamo stati capaci di recuperare un milione e mezzo attraverso la società, a chi ha sempre lo suo spesso come fa, e che noi abbiamo concretizzato e poi ci ha ospitiato che queste risorse finanziate vengano utilizzate per il confinanziamento di sviluppare delle attività produttive per far nascere in rete e sia operabile con il territorio in grado di produrre di chiesa sul territorio. Noi non ci siamo posti nemmeno in un secondo di dare la domanda, l'idea, di identificare che quelle risorse potessero essere utilizzate su un'altra parte del territorio. Andiamo a ringraziare il Padre Edo e gli uomini che hanno messo in campo le azioni per le risorse che erano andati in feglie. Dopodiché, dopodiché, è l'idea che l'intenzione di questa amministrazione, che l'intenzione della maggioranza, che è composta dal componente di Sio in tutte le altre aree del territorio, cercare di un ambito di equilibrio nel rispetto di priorità di risolvere i disagi territoriani. Ma veramente si può pensare che c'è qualche consigliere comunale che possa avere difficoltà a che si migliori la dignità a qualche destella, ad Armino, a San Mauro o in qualche altro posto. Ma veramente si può pensare che c'è qualche consigliere comunale che può arvenare contro rispetto a un'azione di sviluppo di un'area territoriale. Certamente, certamente, quando si stanziano a che vuole e si appappano delle risorse finanziarie per la manutenzione delle strade, una domanda deve lasciare spontanea e la diamo parte insieme di connessione dei lavori pubblici. Facciamo in modo che prima che la manutenzione della strada si facciano altre opere, illuminazione, ostocat, superlopestica, per evitare che dopo la manutenzione si rinforzano i lavori pubblici e vanno alla manutenzione, perché la strada è venuta diventata da un'occasione successiva. Cioè, ho detto, rispetto alla cosa del genere, non ci si dovrebbe rientrare, perché il fatto semplicemente è il proprio lavoro. Abbiamo cercato di esplorare il territorio e le risorse finanziarie che si date altre di loro. Al fine, le opere possono fare sempre che... C'è un atto di indirizzo. L'atto di indirizzo del Consigliere, perché si va in questa direzione. Ma non è l'atto di indirizzo del Consigliere, perché si va in questa direzione. È l'atto di indirizzo di tutti i quali Consigliere comunali. Ma non avessi questo amministrato dal vostro quartiere, non avessi dei dici. Ma c'è l'atto di indirizzo, e se ne ha sessè anche l'atto di l'opera. Se ci vuole l'appunto, ci ha detto di verzo. C'è in questo indirizzo del Consigliere. I amici per tutti gli italiani, perché si lavora il Consigliere comunali. Questo sé, non lo sapendo cosa non ci rimane da 15 punti. Noi, è il Consigliere comunale. Grazie.